Natale a casa Tevenin, l'assessore regionale Marroni in visita allo storico istituto aretino di assistenza ai minori. Nuovo record di fallimenti aziendali ad Arezzo, sono stati 106 nel 2014. Sanità, addirittura d'arrivo la riforma in Toscana, le ASL passeranno da 12 a 3 e resteranno in vita invece le aziende ospedaliere universitarie. Domenica ad Arezzo la festa diocesana della famiglia con il direttore dell'ufficio nazionale per la pastorale familiare. Quando camminare diventa una terapia il progetto scientifico promosso da Comune di Arezzo, ASLotto e WISP. Buonasera dal telegiornale di TSD, lo abbiamo sentito nei titoli, l'assessore Marroni si è recato a casa Tevenin in occasione delle festività natalizie, si è recato appunto nello storico istituto aretino di assistenza ai minori. Vediamo com'è andata. Una tradizione che si rinnova ogni Natale e che quest'anno ha coinvolto una delle istituzioni storiche aretine nell'assistenza ai minori. Parliamo dell'annuale visita dell'amministrazione toscana alle strutture che operano nella sanità e nel sociale. Nella vigilia di questo Natale l'assessore regionale alla salute Luigi Marroni, accompagnato dal consigliere Lucia De Robertis e dal direttore generale dell'ASLotto Enrico Desideri è stato accolto a casa Tevenin. La scelta ora è stata su questa venerabile struttura di Arezzo, storica, proprio per significare la vicinanza, in questo caso a minori, a bambini, ragazzi che seguono un cammino difficile e complesso nelle loro famiglie e quindi una vicinanza a queste situazioni, sia i ragazzi in sé, sia i bambini in sé, sia le famiglie e soprattutto anche all'istituzione che, come dire, si fa carico di questi problemi che ahimè non sono, ce ne sono tanti, sono situazioni complesse, soprattutto in questa fase anche di grande difficoltà del nostro paese. Al fianco dell'assessore Marroni una rappresentanza della dirigenza di Conad che come ogni anno offre un piccolo regalo alle strutture individuate dalla regione. Ai giovani ospiti dell'istituto di via Sassoverde sono arrivati in dono un computer e una stampante. Noi ad Arezzo siamo qui da poco ma ci siamo per restare per costruire una storia lunga come è lunga la storia di Conad in tutte le altre città della Toscana e quindi il piacere reale sta nel fatto di incominciare a aprire quelle piccole porte anche del volontariato, anche delle realtà così radicate come questa che è storica in questa città che in qualche maniera giorno dopo giorno colorano anche la nostra cittadinanza, quella dei nostri negozi che sono destinati a diventare una parte reale, importante della città. Questo è un segno di una presenza nel cuore delle persone che il Tevenin continua a manifestare e quindi siamo grati a Conad per questo regalo, siamo grati alla regione per aver indicato questa nostra struttura che contenerà il suo servizio con semplicità come ha sempre fatto. È stato siglato l'accordo sindacale alla concessionaria Boninsegne di Sansepolcro per la messa in mobilità dei circa 25 addetti. I lavoratori dell'officina potranno godere della mobilità da uno a tre anni, mentre per gli altri dall'inizio del 2015 ci sarà la disoccupazione. La decisione arriva dopo il tentativo messo in atto negli ultimi anni quando la caduta verticale delle vendite delle automobili ha portato alla chiusura della sede di Olmo alle porte di Arezzo e a un piano di rilancio, piano che però non ha portato ai risultati sperati. Sanità, indirittura di arrivo la riforma della Toscana, le ASL passeranno da 12 a 3, resteranno in vita invece le aziende ospedaliere e universitarie. Vediamo il servizio. La riforma sanitaria della Toscana verrà portata in Consiglio regionale a gennaio per un'approvazione al massimo in febbraio. Nella proposta di legge è prevista la riduzione delle ASL da 12 a 3, corrispondenti alle aree vaste in cui è suddiviso il territorio regionale ed entreranno in vigore dal 1 gennaio del 2016. Rimangono in vita invece le tre aziende ospedaliere o universitarie, Pisa, Firenze e Siena, così come l'ospedale pediatrico Meier. Il discorso della sede ad Arezzo è assolutamente prematuro e fantasioso perché non c'è nessun atto che definisce che sarà ad Arezzo o non sarà ad Arezzo. Poi vorrei anche capire che si intende sede. Sono uffici, la direzione, l'ospedale, sono i reparti. Insomma la ASL è formata da tante cose. Non è lo stabile ASL che è importante. L'importante è che nella riforma si tenga conto dei territori e soprattutto dei cittadini. I cittadini devono avere in prossimità tutti quei servizi che sono necessari per l'emergenza, per l'interventistica. Invece possiamo pensare a una riorganizzazione complessiva su una vasta area. Un altro aspetto della riforma entrerà in vigore già nel mese di marzo, quando spariranno gli attuali direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori dei servizi sociali. Saranno sostituiti da un commissario unico per ciascuna area vasta, nominato dal presidente della regione. In questo senso Enrico Desideri starebbe in pole position. Credo sia solo un cambio di dizione. Non si chiamerà direttore, si chiamerà commissario perché nella legge regionale a quel nome è declinato una serie di funzioni e di obiettivi. Poi è obbligatorio forse andare a lavorare negli sprechi laddove ci sono, ma più di sprechi parlerei di appropriatezza delle cure a salvaguarda proprio del paziente. Nuovo record di fallimenti aziendali ad Arezzo. Sono stati 106 nel 2014, superando di una unità a quelli dello scorso anno e colpendo un po' tutti i settori. Le procedure di concordato preventivo per evitare i fallimenti sono salite invece da 42 a 44. A inizio gennaio è atteso il primo ok del Tribunale per l'iter riguardante la Cadla, il colosso della grande distribuzione. Il piano prevede la dismissione già avviata dei supermercati di 2G, l'altra società dei fratelli Giannetti e del terreno di San Zeno dove era prevista l'edificazione di un nuovo magazzino. Per quanto riguarda invece la ex Ciet di Piero Mancini in amministrazione straordinaria, il 2015 sarà l'anno della vendita con un bando internazionale di TTE e cometi. Domenica vedrà arrivare ad Arezzo la festa diocesana della famiglia con il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare della Conferenza Episcopale Italiana. Vediamo. Il 28 dicembre la diocese di Arezzo Cortona Sansepolcro organizza una festa per la famiglia. Qual è il programma e quali le finalità di questa iniziativa? Sì, un evento davvero importante che coinvolge tutta la Chiesa diocesana. Abbiamo invitato per l'occasione Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio Nazionale della Famiglia della Cei che verrà appunto a tenere un incontro iniziale sul tema il Vangelo della Famiglia del Matrimonio, piccola chiesa domestica in uscita. Lo faremo ospiti della parrocchia di Santi Pietro e Paolo alle ore 9.30 alle 10.30 appunto Don Paolo terrà l'incontro, dopodiché celebreremo tutti assieme la messa con l'animazione delle famiglie dei bambini, pranzo comunitario assieme su prenotazione e poi nel primo pomeriggio la ripresa dei lavori attraverso le formazioni in gruppo eccetera e un intervento da parte del consultorio diocesano che ci parlerà ed è un tema molto importante che riguarda proprio la quotidianità soprattutto anche della nostra città nelle problematiche della famiglia retina. Quindi ripeto 28 dicembre Chiesa Santi Pietro e Paolo, ore 9.30, 10.30 Don Paolo Gentili ci parlerà anche di questa grande notizia che esce direttamente dal Sinodo che come sappiamo la Chiesa Mondiale a Roma parla proprio ed ha investito proprio il futuro sulla famiglia. Quindi una festa della famiglia al quale tutti sono invitati. Tutti sono invitati, ecco preghiamo solo per un discorso di organizzazione per il pranzo di mandare una mail a famiglia.diocesi.arezzo.it. Vi aspettiamo tutti, abbiamo un bello staff per l'animazione, abbiamo già tantissima adesione, un'occasione davvero di celebrare ancora le feste del Natale. Come ormai da tradizione il centro di pastorale giovanile e la comunità monastica di Camaldoli promuovono un ritiro per giovani per un capodanno alternativo. Le giornate di incontro e riflessione per ragazzi tra i 20 e i 30 anni si svolge la domenica del 28 dicembre e fino a giovedì 1 gennaio sul tema Abramo, quale padre per quale fede, il ciclo di Abramo. Si tratta di uno spazio di incontro condividendo preghiera, dialogo, approfondimento e comunione. Collocate nel tempo di Natale queste giornate possono essere un prezioso momento per custodire la relazione con Dio, con gli altri e con le vicende che segnano la storia dell'umanità. Le giornate sono caratterizzate dalla possibilità di condividere con i monaci la preghiera, incontri di carattere biblico-spirituale, momenti di dialogo personale e di gruppo. Quando camminare diventa una terapia, il progetto scientifico promosso da Comune di Arezzo, ASL e WISP. Vediamo. Secondo la letteratura scientifica costituisce una forma benefica di attività fisica. Il cammino è un esercizio che fa lavorare il cuore e i polmoni ed è importante ad ogni età. A partire dallo scorso ottobre sono arrivati anche ad Arezzo i gruppi di cammino promossi dal comitato locale della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Sulla scia di questa positiva esperienza è nato il progetto Il Cammino come terapia, un percorso che inizierà nel 2015 ed avrà la durata di tre anni. Una progettualità dove c'è all'interno la Fondazione Cesarpino, la USLE, la Fondazione Francesco Redi, il Comune, le reti città sane e il CALCIT che è sempre presente anche in questo tipo di attività. Vogliamo dimostrare scientificamente l'importanza che il cammino ha come terapia sia nella prevenzione di molte patologie ma anche nella cura di altre tante patologie, dal diabete alla pressione alta alla stessa sindrome ansioso-depressiva dove chiaramente il cammino può dare veramente buoni risultati. L'iniziativa rientra all'interno del progetto Città Sane promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È dimostrato che l'attività fisica regolare e il cammino è quella che possiamo fare in maniera più semplice porta grossi benefici alla salute. Per cui il progetto Città Sane ha lanciato questo tipo di attività in tutte le città che fanno parte della rete e viene svolto in molte. Oltre a questo è seguito dal Dipartimento della Prevenzione perché il Ministero tramite il progetto Guadagnare Salute sponsorizza fortemente l'attività fisica perché ha dei risvolti sulla salute veramente importanti. La WISP si propone come braccio operativo. Continuiamo un'opera che abbiamo già iniziato con i nostri gruppi di cammino che si svolgono nei parchi della città e questo progetto è un progetto più specifico, ha una caratteristica più scientifica. Noi continuiamo a dare il nostro supporto a questa iniziativa. Questa iniziativa si caratterizza anche con una centralità del medico di base che conosce bene i bisogni dei propri assistiti e che quindi potrà proporre questo tipo di attività. E poi un ruolo anche di coordinamento e di verifica dei risultati di questa attività da parte dell'Asle. I possessori di auto a GPL Metano non saranno tenuti nel 2015 a pagare il bollo per le proprie vetture. Lo ha stabilito la Regione Toscana nella propria finanziaria con un provvedimento che nella nostra Regione interesserà circa 9.000 veicoli. È un'iniziativa importante che abbiamo sostenuto con forza, fanno sapere dalla CNA Toscana. Tutti i veicoli a partire dalla categoria Euro 4 godono di un'agevolazione nazionale del 10%. I dispositivi antinquinamento però perdono efficacia nel diesel a causa dei chilometri percorsi, mentre nei veicoli a benzina per i brevi tragitti. Due fattori che rendono di fatto vane le agevolazioni. Questo provvedimento, aggiunge CNA della Toscana, agevola invece i veicoli effettivamente meno inquinanti e incentiva anche la trasformazione di auto a benzina in GPL o metano, dando così un nuovo slancio alle circa 500 imprese toscane di installazione di impianti a gas nelle autovetture con un settore che fa registrare 1.500 addetti. E come ogni mercoledì torna la nostra rubrica curata da Elisabetta Giudrinetti e dedicate alla buona lettura. Vediamo. Insieme a sua Tarcisa, che nella libreria Paoline si occupa particolarmente dei DVD, vorrei presentare 5 proposte appena arrivate, complete di CD naturalmente, per i ragazzi, per i più giovani, ragazzini delle elementari, delle medie e non solo. E quindi abbiamo verso, dedicato naturalmente a Natale, verso Bethlehem, Natale ti mette le ali, viaggio a Bethlehem, anche oggi è Natale, noi figli dei magi. Ecco, proposte interessanti naturalmente, non tutte, solo e soltanto esclusivamente rivolte a Natale. Ad esempio, noi figli dei magi, è vero, sua Tarcisa può essere utilizzato anche in un altro periodo dell'anno, perché si parla di una band, di ragazzi che così vogliono suonare, agitati ed altro. E questi figli dei magi, lasciamo il punto interrogativo su che cosa potrebbe essere, ma non necessariamente si può riferire solo e soltanto ai magi dell'Epifania, appunto. Quindi, interessanti, sono Tarcisa queste proposte, complete di CD, con molte canzoni, canzoni orecchiabili, canzoni carine, divertenti, evocative dello spirito natalizio, ma soprattutto proposte per stare insieme, per ripercorrere il mistero del Natale, viverlo e pregare cantando. Sono state installate presso la sede comunale di Civitella le apparecchiature POS per consentire pagamenti al Comune attraverso l'uso di carte Pagobankomat, carte di credito e carte prepagate. Tale procedura può essere utilizzata presso gli uffici comunali, quale alternativa al pagamento in denaro contante per tutte le entrate di natura extratributaria. E questa era l'ultima notizia di questo telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon Natale e buona visione con i nostri programmi. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS